saluto non è solo qui ai presenti ma anche a chi è collegato da tutta Italia e da tutto il mondo perché sappiamo già qualcuno che ci sta scrivendo da Bologna, Milano, dalla Sicilia che in questo momento è in attesa di sentire questi importanti temi. Quindi poi ben arrivati ai più lontani anche relatori ma anche qui abbiamo presenti 15 ricercatori di cui poi il professor Stefano Bartolini ci dirà da tutto il mondo e tanti altri. Vedo anche abitanti del Polo quindi sarà un pomeriggio molto molto interessante. Il saluto viene anche dall'assessore Gianni Salvatori che in questo momento anche a nome della Regione Toscana non è potuto partecipare per ragioni di famiglia ma abbiamo cominciato già, questa è la seconda conferenza il 17 gennaio e quindi lui stesso ha aperto questo ciclo di conferenza sottolineando la scelta della Regione Toscana non solo dei partner quindi anche il Polo ma anche del significato di questo laboratorio nel percorso verso Expo 2015. Ecco, mi è piaciuta molto la sua definizione di Polo perché di solito siamo noi che lo presentiamo. Noi abbiamo scelto il Polo come laboratorio permanente per parlare di Toscana, laboratorio globale della qualità di vita perché ogni giorno cerca di vivere quei valori dell'economia civile, quei valori che in fondo cerchiamo anche dall'umanesimo civile della Toscana di poter come dire nell'oggi incarnare, vivere proprio nella cultura di impresa, nell'esperienza quindi delle 24 imprese ma anche nell'esperienza appunto che fa cultura, quindi che fa non solo quindi impresa che fa che è bene comune e che quindi esprime un valore appunto per, un grande valore per tutta la società e lui ci, come dire, paragonava la bottega fiorentina, dove c'era cultura, prodotto, servizio. Quindi questa metafora, questa analisi ci piaceva molto e speriamo veramente di essere questo laboratorio permanente. Ecco, questa seconda conferenza quindi ci piace moltissimo perché sentiamo che abbiamo bisogno di approfondire questi temi per poterli poi far diventare veramente cultura d'impresa, agire e quindi chiederei proprio semplicemente una parola anche al professor Bruni e a Bartolini che sono i nostri referenti del comitato scientifico del progetto che in qualche modo ci dicano il perché anche di una riflessione di questo tema del lavoro. Buonasera, poi sarà Stefano a Bartolini a presentare il convegno, io dico solo una battuta di benvenuto insieme a Eva che sono anche io associato al progetto di cammino di comunione, sull'importanza di questo convegno di oggi sul lavoro. Noi viviamo in una buona fetta dell'Europa meridionale e una grave crisi del lavoro. Cioè il lavoro non ce n'è abbastanza, non ce n'è per i giovani e soprattutto chi lavora vive anni di sofferenza lavorativa dovuto a uno stress crescente nelle imprese e nelle organizzazioni. Anche il nostro polo lavora e soffre come tutti. Quindi ci sembrava che mettere l'accento in questa fase dell'Italia e dell'Europa sul lavoro, sul benessere lavorativo quindi di riflesso sul malessere lavorativo sia un contributo, un atto di amore civile anche alla nostra gente. Cioè possiamo parlare di cibo, di espò, di cuochi, di come si farà a Milano, del cibo come esperienza eccetera ma non dimentichiamoci che il primo cibo che dà energia è tutti gli altri cibi e poter lavorare quando si deve lavorare. Quindi siamo molto lieti di mettere proprio al centro del nostro serie di congressi, quattro, di mettere proprio il tema del lavoro, del benessere lavorativo in questo momento della storia dell'Europa. E quindi grazie ai redattori che ci hanno onorato di questa loro presenza. Sì, presento brevemente il contesto in cui questo evento è situato. Si tratta di quattro conferenze e una winter school che è diretta, una scuola invernale che è diretta a 15 ricercatori che sono stati selezionati in base a un bando internazionale, vengono da tutto il mondo e per progetti di ricerca sulla qualità della vita. Passano alcune settimane qui con noi nelle quali vengono portati avanti i loro progetti di ricerca. In sostanza l'idea è di proporre la Toscana come un luogo di riflessione globale sulla qualità della vita e una riflessione che sia orientata a fare delle proposte, delle proposte di politiche per la qualità della vita. Questo è il nostro scopo. Il nostro scopo è cambiare le cose, perché abbiamo un problema di qualità della vita in Occidente, un grossissimo problema che con queste iniziative vogliamo contribuire a risolvere. Per questo abbiamo organizzato questi quattro convegni, tutti su temi cruciali. Questo è il secondo. Il primo era sulla costruzione di una visione del futuro, perché negli ultimi decenni abbiamo perso una visione del futuro. Non sappiamo più dove vogliamo andare e che cosa vogliamo fare nelle nostre vite sociali e individuali. Questo convegno invece è sul benessere sul lavoro, tema assolutamente cruciale, perché come tutti sapete siamo in presenza di un'epidemia di malessere sul lavoro, epidemia di burnout, di stress, di depressione e persino di suicidi a volte nelle grandi imprese. Ma questi suicidi sono solo la punta dell'iceberg. Vogliamo trovare un altro modo di lavorare che stressi meno la gente e che non pesi sulla produttività del lavoro. Non ci faccia diventare tutti più poveri. Per questo abbiamo chiamato oggi tre esperti di grande prominenza internazionale sull'argomento e che ci racconteranno come possiamo fare, in che direzione possiamo andare e perché poi tutto questo è successo. Perché c'è stata questa epidemia di malessere sul lavoro. Siamo in diretta streaming.